Una ulteriore giornata di approfondimento sulla legge anticorruzione realizzata in collaborazione con il Formez e con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Abbiamo voluto mettere a disposizione dei segretari comunali, dei vari funzionari, ulteriori elementi di riflessione. La formazione riveste un ruolo importantissimo nell'attuazione di questa legge e possiamo dire che la formazione dovrà essere incentrata su due pilastri, una sull'aggiornamento di carattere giuridico e amministrativo e l'altra sulla integrità. Riteniamo che la scuola possa adoperarsi per questo raggiungimento di questi obiettivi e abbiamo già programmato altre due giornate da tenersi, una a dicembre e l'altra a gennaio proprio per gli ulteriori approfondimenti, tenendo conto anche dei chiarimenti che lo stesso Ministero sta emanando.